Buone pratiche, buoni esempi, come sapete ho una rubrica sul mio sito e questo è decisamente un bellissimo esempio perché questa che vedete adesso molto ben rifinita e molto ben costruita, in realtà fino all'anno scorso era un rudere, era una tipica casa vecchia diloccata e mal ridotta. Qui dei genitori si sono rimboccati le maniche e con l'aiuto di aziende locali l'hanno ristrutturata ed è venuta fuori una scuola materna e elementare, asilo e elementari e anche medico. In buona sostanza, adesso loro ci spiegheranno meglio e facciamo una veloce panoramica, ma in buona sostanza le aziende hanno messo il materiale e una parte della lavorazione, i genitori hanno messo un'altra parte della lavorazione, il comune ci ha messo anche dei migranti che hanno lavorato un mese e mezzo per la costruzione di questa scuola, risultato scuola finita, operativa, senza un euro di denaro pubblico, adesso è una scuola privata, quindi per carità chi la frequenta chiaramente paga un canone di iscrizione, però l'edificio che era dirocato è stato completamente riattato e adesso se facciamo una panoramica veloce dentro, così non abbiamo neanche i rumori dell'auto a combustione interna, perché sono ancora a combustione interna, facciamo una panoramica. Ecco, prego il rappresentante qui di cominciare a spiegarci, iniziamo a farvi vedere un attimo l'aula dell'asilo, ecco qua, questa è una delle aule dell'asilo e visto che vi chiediamo in silenzio, se intanto il nostro genitore vuole spiegarci meglio di come fu fatto io fino Allora, com'è andata questa storia? Allora, intanto, non l'hai detto prima, scuola di Titu, ci chiamiamo. Scuola? Di Titu. Titu è il nome di un personaggio di una fiaba, di un bambino a parte di una fiaba e l'abbiamo preso per il significato della fiaba. Allora, in realtà, tu prima parlavi di scuola privata, ma in realtà noi siamo una cooperativa di genitori, poi di fatto ci comportano solo la privata, perché se vuoi venire qua di pagare la retta come le preti, le suore o... Privata, nel senso che una cooperativa comunque non è un soggetto pubblico. Esatto. Comunque è un soggetto di diritto privato. Allora, in realtà noi siamo... Una cooperativa, ben pienissima. Non siamo riconosciuti dal MIUR e quindi siamo in istruzione parentale e quindi la forma anche giuridica nostra è un po' particolare e in realtà noi siamo considerati una homeschooling. Ci sono diversi esempi di homeschooling in Italia e in Europa. Noi siamo la più grande in Italia, abbiamo saputo un giornalista recentemente con 96 bambini e 85 famiglie che fanno parte di questo progetto. La caratteristica proprio anche di questa organizzazione ci permette di non dependere da nessuno, da un rispettorato, da un voglio religioso, da un imprenditore, ma noi come genitori ci gestiamo una cooperativa tramite una onlus e gestiamo tutto da indipendenti maestri con cui diventare sulla cooperativa sociale, con un bilancio particolare, ovviamente con tutta l'attività romana e cooperativa. E quando tre anni fa, per collegere inizio non l'anno scorso, tre anni fa siamo entrati e si scusano, ma insomma è proprio il bello della diretta. Non stavamo più nel vecchio edificio e abbiamo fatto una proposta appunto al Comune di darci uno stabile attraverso un regolare bando ovviamente per riqualificare. liberato, incomodato? Siamo incomodato giorno gratuito 10 più 10. 10 più 10 anni. 10 più 10. C'era il vincolo però, l'ho incomodato se lo sistemate. Certo. Ecco, prima abbiamo fatto un progetto di restauro e poi ci siamo resi conto che noi con le nostre forze non ce la facevamo perché comunque la cooperativa non produceva, la onlus, quegli utili da poter investire in un restauro. Allora è venuta in mente l'idea del restauro sociale di alcuni genitori, che è stato attraverso i venditori del territorio fondamentalmente abbiamo fatto rete. Quindi usando neanche tanto social o altri strumenti, ma dopo passaparola con la rete abbiamo cominciato a essere un architetto, maestro alza la mano, mio fratello è un architetto e quindi l'architetto del fratello di una maestra della scuola ha fatto il direttore lavori. Ah ma servirebbe anche gente che lavora, allora una conoscenza con la scuola di lei Treviso ha creato un altro legame e così con la rete abbiamo raccolto maestranze, imprenditori che hanno donato materiale e mano d'opera. Passiamo su un'altra aula e continuiamo che così ci tengo a far vedere un po' tutta la scuola. Questa è la seconda aula a silo. Quello che a video non potete sentire è il profumo. È molto buono, molto buono, senza che mi ha fatto danni. È un profumo molto da pulito, molto sano, aria decisamente piacevole, gradevole. Vedete chiaramente tutti i materiali diciamo così tra virgolette poveri, c'è moltissimo legno, sembra un po' una scuola di altri tempi però ci sono anche tutti i comfort dei tempi moderni. Volevo far vedere anche le classi elementari. questo è il refettorio, dopo ci mangiamo una pastina. Sì è una sala polivalente questa dove facciamo attività di musica quando ci troviamo con le famiglie è la stanza un po' più grande e si mangia. Saliamo su velocemente un attimo che ci sono invece le aule della scuola alimentare media. Diciamo che dai scalini ci si accorge che la casa era vecchia. Dai scalini ci si accorge che la casa era vecchia, ma tutto il resto è stato sistemato veramente molto bene con delle imprese, adesso possiamo parlare dei rappresentanti delle imprese che hanno donato i materiali, gli estrelle, bagni, un po' tutti i materiali, serramenti, grondaie, peraltro classi con numeri piuttosto ridotti di allievi, quindi si seguono anche molto. Volevo dare la parola a uno degli imprenditori, non è l'unico giusto? Ci sono altri ma... Dopo vi lascio qua c'è la lista di tutti gli imprenditori che hanno collaborato. La faccia, sono per i cari, senza fare pubblicità, quindi senza inquadrare troppo da vicino, ma insomma sono tanti, quindi intanto io le ringrazio. Sono una pagina. Ah, sono due pagine, tre pagine, insomma tanti, tanti imprenditori, quindi complimenti a tutti. Diciamo che un piccolo aiutino glielo dà anche la legge a questi imprenditori perché c'è una legge che consente di porre in detrazione fiscale materiale... In donazione materiale, anche se fossero incontanti, consente di porre in detrazione fiscale, quindi certamente questi imprenditori a prescindere hanno fatto un bellissimo gesto. In realtà, lo diciamo per chi magari ci seguisse, c'è anche questo vantaggino che, dicevo, piuttosto che un calcio negli stinchi, l'involuzione fiscale fa comodo. Però, prego... Ma noi, senatore, quando ci è stato proposta questa cosa, quando si parla di ragazzi, di nostri figli, del nostro futuro, se voglio, soprattutto del nostro futuro, io ho certamente perso il tempo e l'ho fatto veramente momentiari. Credo che questa è una scuola dove il talento viene fuori, perché ognuno non è un talento, cioè non è che adesso uno sia bravo perché solo sa giocare a calcio o non sa giocare a calcio o gioca. Cioè, ognuno ha un talento e questi signori, questi maestri veramente bravi, credo cerchino di tirarlo fuori. Quindi, da questo punto di vista, sono orgoglioso di aver fatto questa relazione e se nel quel caso ce ne fossero altre, sono pronto a rifarlo senza dire... Allora, a parte qualche piccolo venente, quindi siccome questo video lo faccio soprattutto a titolo di buona pratica, che non è rimasta un sogno, si è concretizzata, se qualcun altro in Veneto, in Nord Italia, in Italia tutta, volesse telefonare e poi magari riusciremo a qualche riferimento e avere qualche indicazione in più, magari lasciamo perdere gli imprenditori di Treviso, ma fortunatamente ci sono imprenditori in tutta Italia, io penso che sia un'ottima pratica che si possa replicare. Facciamo vedere velocemente un po' il resto, ci sono ancora altre classi, come vedete, tutte piuttosto piccoline e così i ragazzi sono seguiti personalmente. Sono classi, vedete, di una decina di persone, di ragazzi, quindi vengono seguiti molto bene. Ripetisco, quello che non si sente via, che non si vede via video è che c'è un'atmosfera veramente molto pulita, molto sana. Che ha un significato pedagogico anche profumo. Sta molto da legno, molto da oli essenziali, è molto buono, veramente, sembra di essere quasi in quei negozi che vendono materiale biologico, erbe, profumerie, erboristeria, è molto da oli vegetali, sì. Da un'altra classe. Recuperiamo anche un'insegnante. C'è, abbiamo anche l'insegnante, diciamo, artistico, perché ovviamente ha un look. Un look, artistico, e quindi due parole anche sul mezzo di insegnamento che ho capito male, è un po' tipo Montessori, è un po'... Allora, noi diciamo che il cuore pulsante didattico pedagogico si fa alle scuole Valdo, alle scuole Stenegliani. Stenegliani. Sì, che è un movimento che ha cent'anni quest'anno e che è diffuso in tutto il mondo. Noi abbiamo come cuore pulsante questo genere di conoscenze e anche di protocolli che poi ne derivano, ma ci siamo in qualche modo aperti anche alle tendenze libertarie che si inseriscono bene in questa tipologia di scuola. Quindi siamo di fronte ad una scuola alternativa sicuramente, ma all'avanguardia. Diciamo, facciamo un po' la prua della nave... Velocemente, le grosse differenze rispetto a una scuola classica, cioè meno distanza tra allievi e insegnanti, meno compiti in classe, quali sono le grosse differenze? Non c'è la pagella. Non c'è la pagella, cari ragazzi. È un buon esempio. Tutti qui a Trevi. Che non vuol dire che non facciamo verifiche. Anzi, no, alla fine dell'anno ai bambini viene preparato qualcosa singolarmente per uno di loro. Quindi può essere una poesia, un elaborato scritto o anche, perché no, disegnato o anche cantato, in alcuni casi per il bambino singolo, in modo tale che, a seconda del linguaggio che lui assimila... Quasi il suo talento. ...il suo talento, le sue caratteristiche, i maestri creano appositamente per lui, non una pagella, una valutazione di peso e di misura, ma forse una raccolta delle esperienze annuali e un esempio di miglioramento. Dei consigli. Dei consigli. Quali sono le cose su cui il ragazzo è più orientato, ha più... Diciamo che ogni bimbo ha il suo linguaggio prediletto e il suo insegnante, anche con l'aiuto degli altri, cerca di usare, di sfruttare questo linguaggio per dare a lui degli aiuti, chiaramente, ma anche, perché no, per fare un peso corto dell'anno scolastico, delle sue crescite, delle sue lacune, ma anche, perché no, dei suoi talenti e di solito sono... Sì, ovviamente se noi abbiamo semplificato e scherzato un po', ma è un metodo che ha appunto un secolo di vita e che in tutto il pianeta ha prodotto, ha sfornato nomi molto, molto importanti, per cui non mi dilungo troppo, basta che su Google, su Motori di ricerca, cercate scuole stranariane e avrete un mondo, e si aprirà un mondo nuovo davanti. Quindi, cosa dire, grazie ai genitori, grazie agli insegnanti, grazie agli imprenditori che hanno messo in piedi in, veramente, tutto sommato, veramente poco tempo, e qua siamo, il solito discorso, iniziativa privata, quindi a parte la concessione, appunto, incomodato di questo che era un vecchio, diciamo, un vecchio edificio, a parte questo, poi il resto si è mosso con grande velocità, io ringrazio anche quei migranti che per un paio di mesi hanno tamponato, perché era durante l'estate, quindi durante l'estate sia le aziende che le famiglie, giustamente, si erano prese in meritato riposo, e in quei due mesi hanno tamponato i migranti, quindi ringrazio anche loro e sottolino che con loro se ci fosse una vera sinergia non ci sarebbero problemi, ma al contrario sarebbe appunto una sinergia una risorsa per tutti, una risorsa per tutti. Quindi grazie, vi posto magari più tardi, appena rientro a casa, un link sulle scuole stenerane, magari segnate un contratto di un referente, se qualcuno volesse prendere spunto da questo esempio, e buon sabato e buona domenica a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.